E così la Chiesa è sempre andata avanti lasciando allo Spirito Santo che rinnovi queste strutture, strutture di Chiesa. Non avere paura a quella, non avere paura alla novità del Vangelo, non avere paura alla novità che lo Spirito Santo fa in noi, non avere paura al rinnovamento delle strutture e perciò Gesù dice che per il vino nuovo è necessario altri nuovi. La sfida che il mondo oggi sta lanciando a noi religiosi nella trasmissione del Vangelo, c'è bisogno soltanto di contenuti ma anche di qualità nel modo in cui noi esprimiamo il Vangelo. A fronte dei grandi cambiamenti che sta attraversando la Chiesa e le prospettive che si stanno aprendo, oggi noi laici siamo chiamati ad una corresponsabilità sempre maggiore all'interno della Chiesa. Il più grande problema è di pensare globale, di attaccare locale in una situazione particolare. Questi sono i problemi importanti problemi che abbiamo. Ristrutturare una Chiesa, avere un centro medico o fare qualcosa che a che vedere con i soldi, con il denaro, abbiamo paura. Purtroppo tante volte noi sacerdoti abbiamo una mancanza di questo, di come amministrare i beni economici. Ci interessa tutto, spirituale e materiale. Per sapere come funzionano alcune cose concretamente, per fare andare bene le comunità, ci vuole anche questa parte materiale. L'opportunità di cooperazione, di partenza, e di apprezzare da un'altra per fare tutto ciò che abbiamo bisogno di fare nella Chiesa per farlo ancora meglio. Sento molto la responsabilità come direttore di creare veramente un'esperienza unica, speciale, che non ha termini di paragone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.